hanno domato asfalto caldo torrido e mezzi meccanici angelo lombardo e roberto consiglio della scuderia raw racing si sono giudicati l'undicesimo rally lana storico il siciliano ha ingaggiato un duello prima con la sua stessa porsche alla prese con problemi tecnici e con la carrozzeria danneggiata poi con i detentori del titolo bertinotti rondi rally e c la scuderia e infine finché sono stati in gara con gli altri biellesi davide negri e roberto coppa poi negri ha accusato un problema al cambio della sua lancia delta a 16 valvole in livria martini sono riuscito a sfatare il mito che vuole i piloti di bielle imbattibili all'ana ha detto lombardo a fine gara al secondo posto i vincitori del 2021 bertinotti e rondi è probabile che i tifosi mi rivedano già a fine luglio nell'ana moderno ha detto il pilota terzo posto per ivan fioravanti altro biellese sfortunato gli anni scorsi ma al di là delle annotazioni statistiche e sportive è stato lo spettacolo sulle strade biellesi a fare più da protagonista che da cornice appassionati amatori curiosi tutti a bordo strada come negli anni 70 ed 80 lo stesso periodo delle auto storiche protagoniste della kermesse quando il rally della lana era tappa di campionato europeo la provincia laniera terra ricca ricca di lavoro hobby e passione forse per questo motivo il rally delle auto vintage ha raccolto in zona tanto successo per nostalgia del bel tempo che fu anche ma anche per la voglia di far festa stare insieme trovarsi con gli amici su un muretto a bere una birra e a guardare questi pazzi piloti oggi perché la festa del motore non può essere che in una biella